un'avventura davvero tosta sapevo che sarebbe stata così difficile per me per come sono fatto io ho mostrato quello che potevo quello che io sono un pirla la nostra top model Katia Ricciarelli la mia Katyusha è stata la persona con cui io ho condiviso le emozioni le mie più grandi e più sincere quando l'ho vista varcare quella porta ho capito di quanto io l'amassi di quanto era bella io di lì ti amo da impazzire ti amo più grande che io abbia detto nella mia vita mio padre ho scoperto stando qua dentro che io sono uguale a lui quando sei triste canta non posso definire l'amore della mia vita in un certo senso mi ha anche salvato la mia vita siamo sempre stati uniti dici sempre che io ti ho aiutato nella tua vita ma lo hai fatto anche tu che io sono stati uniti io sono stati uniti e che io sono stati uniti io sono stati uniti mi sono stati uniti ma lo hai fatto anche tu